Immaginate di svegliarvi con la neve dopo giorni di caldo estivo. Sì, sta succedendo proprio ora. Come è possibile che da temperature estive si passi improvvisamente a nevicate? Scopriamolo insieme! Solo pochi giorni fa, il nord Italia viveva condizioni quasi estive, con i cittadini che si godevano i primi caldi sotto un sole coccente. Le temperature, insolitamente alte per questo periodo dell'anno, sfioravano i 30 gradi, invitando molti a lasciarsi alle spalle i pesanti cappotti invernali. Tuttavia, il caldo sta per dire addio in modo sorprendente e brusco. Un vasto fronte perturbato proveniente dall'Atlantico è in avvicinamento e sta per modificare radicalmente questo scenario. Già da mercoledì 10 aprile, il cambio di scenario si fa sentire con i primi piovaschi che segnano l'inizio di un deciso peggioramento meteorologico. Questi piovaschi, però, sono solo l'antipasto di quello che sta per arrivare. A partire da giovedì 11 aprile, un'ondata di freddo intenso, spinta da correnti gelide provenienti dall'Europa del nord, invade il nord Italia. Questo repentino calo delle temperature non è solo una breve incursione invernale. Porterà con sé fenomeni ancora più estremi, inclusa la neve che arriverà a sorpresa anche a quote insolitamente basse per il periodo. Sei sorpreso da questo cambio repentino? Raccontaci nei commenti come sta cambiando il clima nella tua zona. Mentre al nord si preparano per un ritorno dell'inverno, al sud del paese la situazione è diametralmente opposta. Qui, sembra che l'inverno non abbia mai fatto veramente la sua apparizione quest'anno, con temperature che continuano a mantenersi ben al di sopra delle medie stagionali. Questo contrasto, tra nord e sud, non solo evidenzia la variabilità climatica dell'Italia, ma solleva anche interrogativi più ampi sul cambiamento climatico e sui suoi effetti sempre più imprevedibili e marcati sul nostro ambiente. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perderti nessun aggiornamento. Attiva le notifiche e se il video ti è piaciuto, lascia un like. Questo approfondimento mira a fornire una narrazione più dettagliata e coinvolgente. Dei rapidi cambiamenti climatici e meteorologici che stanno interessando l'Italia, stimolando una riflessione sui cambiamenti a lungo termine nel clima globale e sulle loro conseguenze immediate. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Grazie per aver guardato il video!